Musica Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video e allora andiamo a parlare di questo grave problema che in questo momento sta colpendo non solo la Cina perché fino a qualche settimana fa era solo la Cina perciò si pensava fosse circoscritto, si pensava fosse fermo lì e fuori da lì non usciva ma purtroppo come si sta vedendo ultimo aggiornamento di ieri sera due casi anche in Italia oltre che nell'Unione Europea in generale e allora ragazzi vi inserisco qui delle informazioni sia in descrizione che sul video stesso 19 punti per poter appunto eventualmente riconoscere la malattia che cos'è il coronavirus, come è nato, cosa fare, cosa non fare eccetera eccetera Il coronavirus, coronavirus non è un virus nato oggi nel senso io sento in giro tante scemenze c'è chi dice che è un virus che è nato ora, lo hanno scoperto ora che lo hanno fatto in laboratorio no ragazzi, coronavirus è un diciamo una tipologia di virus che però si divide in tanti diciamo virus differenti è una diciamo una famiglia che in questa famiglia si suddividono tante tipologie di virus però tutti che cosa hanno in comune? hanno in comune diciamo il contagio perciò come si sposta da persona a persona anche da animale a persona ragazzi non è solo questa volta che poi comunque a seguire andrai ad ascoltarlo non è la prima volta che succede che viene l'uomo contagiato da un animale anche nel 2012 era stata diciamo denunciata una cosa simile ma non sono in Cina ragazzi, anche in altre parti del mondo anche i dromedari stessi hanno diciamo contagiato gli uomini con una specie di coronavirus allora ragazzi vi lascio la registrazione mi raccomando ascoltatela tutta è molto importante e alla fine del video ragazzi vi inserirò o meglio vi parlerò di una cosa molto importante al mio avviso perché? perché io sono un imprenditore ho lavorato per anni e anni e anni con la Cina ovviamente non ci sono mai stato lavorando sempre diciamo a distanza conosco tantissimi cinesi ho avuto modo di fare varie collaborazioni siamo rimasti con moltissimi in buoni rapporti siamo ancora oggi in buoni rapporti per vari diciamo lavori, collaborazioni, cooperazioni che ho detto questo vi posso dire una cosa ragazzi che ieri sera mi sono sentito con un amico cinese questa persona abita a Shenzhen che non è vicino attenzione a dove diciamo è nato questo nuovo ceppo cioè questo nuovo virus della famiglia del coronavirus non è vicino ma neanche lontano comunque è per dire che questo virus si è trasmesso si è spostato da dove è nato a Shenzhen e anche nelle città confinanti le parole ragazzi che mi ha detto mi hanno colpito tantissimo perché chi meglio di lui chi meglio di loro che vivono lì possono saperci dire la realtà dei fatti i DG ragazzi evitano di dire la verità perché perché si andrebbe a creare scompiglio si andrebbe a creare una sorta di paura che ovviamente io non voglio far spaventare nessuno io non voglio far niente di ecco di drammatico voglio però portarvi la realtà la verità questa verità non la dico io ma la dice un abitante cinese che vive a Shenzhen che diciamo la capitale della tecnologia del commercio chi meglio di loro ma non solo lui attenzione ho avuto modo di parlare con tanti altri però lui è stato quello che diciamo abbiamo comunicato di più abbiamo parlato di più ci siamo fermati per più tempo a parlare a discutere e comunque ragazzi il video preparati che sarà lungo però ne vale la pena tante cose interessanti e tante cose che ci fanno pensare pensare davvero sul nuovo coronavirus cinese che sta spaventando il mondo il ministero della salute ha pubblicato sul suo portale una serie di FAQ per aiutare a fare luce sull'infezione eccole 1 che cos'è un coronavirus i coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria medio orientale MERS e la sindrome respiratoria acuta grave SARS 2 che cos'è un nuovo coronavirus un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo 3 gli uomini possono essere infettati da un nuovo coronavirus di origine animale? indagini dettagliate hanno scoperto che in Cina nel 2002 SARS-CoV è stato trasmesso dagli zibetti agli uomini e in Arabia Saudita nel 2012 MERS-CoV dei dromedari agli uomini numerosi coronavirus noti circolano in animali che non hanno ancora infettato esseri umani man mano che la sorveglianza migliora in tutto il mondo è probabile che vengano identificati più coronavirus 4 quali sono i sintomi di una persona infetta da un coronavirus? dipende dal virus ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite sindrome respiratoria acuta grave insufficienza renale e persino la morte 5 i coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona? sì, alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario 6 esiste un vaccino per un nuovo coronavirus? no, essendo una malattia nuova ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno i tempi possono essere anche relativamente lunghi 7 esiste un trattamento per un nuovo coronavirus? non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus? il trattamento deve essere basato sui sintomi del paziente la terapia di supporto può essere molto efficace 8 cosa posso fare per proteggermi? le raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione di una serie di malattie respiratorie comprendono il mantenimento dell'igiene delle mani lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche e delle vie respiratorie starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani, pratiche alimentari sicure, evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate ed evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti 9 In particolare, per quanto riguarda il nuovo coronavirus identificato in Cina, 2019 NCOV, cosa è raccomandato? Si raccomanda di posticipare i viaggi non necessari in aree a rischio della Cina Le aree a rischio della Cina sono consultabili nel sito dell'UMS Se ci si reca in Cina, nelle aree a rischio, si raccomanda di vaccinarsi contro l'influenza stagionale almeno due settimane prima del viaggio La vaccinazione antinfluenzale semplifica la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra coronavirus e influenza Inoltre, riducendo le complicanze da influenza nei soggetti a rischio, aiuta a mantenere più efficienti i pronto soccorso È raccomandato, inoltre, di, evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi Evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori Lavare frequentemente le mani Qualora una persona sviluppi sintomi respiratori, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, mentre si trova nelle aree a rischio Dovrebbe rivolgersi immediatamente a un medico A ritorno, se non si è cittadini che vivono in Italia, per qualsiasi necessità contattare l'ambasciata o il consolato del proprio paese Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero presentare sintomi respiratori, febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, a scopo precauzionale Contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500 Indossare una maschera chirurgica Se si è in contatto con altre persone Utilizzare fazzoletti USA e getta e lavarsi le mani regolarmente 10. Gli operatori sanitari sono a rischio a causa di un nuovo coronavirus? Sì, possono esserlo, poiché gli operatori sanitari entrano in contatto con i pazienti più spesso di quanto non faccia la popolazione generale L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che gli operatori sanitari applichino coerentemente adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e delle infezioni respiratorie in particolare 11. Dove si stanno verificando le infezioni da 2019 NCOV? Un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei è stato segnalato, il 31 dicembre 2019, dalla Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan, Cina, all'OMS La maggior parte dei casi aveva un legame epidemiologico con il mercato di Wuhananase a Fod, nel sud della Cina, un mercato all'ingrosso di frutti di mare e animali vivi 12. Quali sono i rischi di propagazione in Europa? La valutazione del rischio da parte dell'OMS è considerata molto alta in Cina, alta a livello regionale e globale 13. Come si contrae questo coronavirus? La trasmissione da uomo a uomo è stata confermata, ma sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la portata di questa modalità di trasmissione 14. Che fare se si è soggiornato di recente nelle aree a rischio? 15. Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero presentare sintomi respiratori, febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, a scopo precauzionale, contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500, indossare una maschera chirurgica se si è in contatto con altre persone, utilizzare fazzoletti USA e getta e lavarsi le mani regolarmente. 15. Che fare se si è soggiornato in un ospedale in cui è stata ricoverata una persona malata? Il rischio di trasmissione esiste solo se si è stati in stretto e prolungato contatto con il paziente. I malati affetti da infezione da nuovo coronavirus, inoltre, vengono ricoverati in ambienti separati dagli altri degenti. 16. Quali raccomandazioni dell'OMS per i paesi? L'OMS incoraggia tutti i paesi a rafforzare la sorveglianza delle infezioni respiratorie acute-acute, sari, a rivedere attentamente eventuali casi insoliti di sari o di polmonite e a comunicare all'OMS qualsiasi caso sospetto o confermato di infezione da nuovo coronavirus. I paesi sono incoraggiati a continuare a rafforzare la loro preparazione alle emergenze sanitarie in linea con il Regolamento Sanitario Internazionale, 2005. 17. Quale dispositivo di monitoraggio è stato introdotto per questo virus a livello nazionale? In Italia, è attiva una rete di sorveglianza delle gravi infezioni respiratorie acute, sari, e delle sindrome da distress respiratorio acuto, ARDS. La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo contatto con l'OMS e l'Ecdoca, e pubblica tempestivamente ogni nuovo aggiornamento sul suo portale. 18. Quale misura sanitaria specifica per i viaggiatori è stata avviata nel nostro paese? Tutti i voli da Wuhan sono stati cancellati. Le celebrazioni per il Capodanno cinese a fine gennaio aumenteranno il volume dei viaggi da verso la Cina e all'interno della Cina, aumentando così la probabilità di arrivo di casi nel UE. Su tutti i voli provenienti dalla Cina vengono effettuati controlli all'arrivo, che comprendono la misurazione della temperatura e la raccolta di informazioni dai cittadini. Le indagini sull'epidemia sono in corso e poiché si tratta di una situazione emergente e in rapida evoluzione, le informazioni verranno aggiornate ogni volta che vi siano informazioni rilevanti. È stato predisposto materiale informativo da affiggere negli aeroporti per informare i viaggiatori internazionali. 19. Dove posso trovare altre informazioni sul nuovo coronavirus? Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato www.salute.gov.it barra nuovo coronavirus. Allora hai visto le 19 regole, mi raccomando tenile sempre in mente, occhio perché non si scherza. Ora passeremo al punto 2, ti farò vedere cosa il mio contatto in Cina mi ha comunicato. Ripeto, questo video prendilo così per com'è. Non voglio creare disagi, non voglio creare paure, però ragazzi la realtà. Chi meglio, dei cinesi che stanno vivendo, ma non da oggi, ma non da ieri, da già settimane questo problema possono dirci. E i numeri ragazzi fanno paura. Fanno davvero paura. Allora, questa è la mia chat con il tizio cinese. E allora, il tutto è iniziato perché io l'ho contattato chiedendo appunto come stava, come non stava, qual era la situazione. La prima risposta che lui mi ha dato, e la vuoi leggere qui. E allora ti posso dire anche che è cinese, però scrive anche italiano. Ha studiato italiano, infatti è nel mondo del commercio anche per questo. Perché ha modo di parlare a molte più lingue, non solo il cinese, non solo l'inglese. E allora, scrive testualmente queste parole, che poi comunque metterò uno screen così da fartelo leggere. E allora, grave. La situazione di virus sta peggiorando. Fino adesso i casi confermati sono più di 8.000. I casi sospetti sono ancora di più di 12.000. 170 morti, ma solo 141 curati. La gente ha paura di uscire di casa. Il governo ha allungato le vacanze. Mi dispiace. Allora, allungato le vacanze perché? Perché avevamo in programma delle collaborazioni, che ovviamente sono saltate, a data da programmare. Poi, mi ha specificato il nome del virus, perché io ho chiesto che tipologia di virus fosse. E lui appunto mi ha detto coronavirus, che comunque, come hai sentito già prima dalle spiegazioni, colpisce l'apparato respiratorio. E allora, poi ho chiesto anche se dove era lui, perché ovviamente lui non è nel paese d'origine, ma è a Shenzhen. E lui mi ha risposto, Shenzhen, fino adesso non ci sono morti, solo malati. Ragazzi, solo malati. Vuol dire che se queste persone non hanno una cura, moriranno. Poi, io ho chiesto anche altre informazioni, come si può prendere questo virus. Con oggetti, col cibo, col contatto fisico. No, col cibo, mi risponde lui. Viene trasmesso principalmente da goccioline umane e causa malattie respiratorie. Ho chiesto altre informazioni sull'origine di questo virus. E lui mi ha scritto questo. L'origine dell'incidente è Wuhan, la capitale della provincia di Hubei, della Cina. Una megacittà con una popolazione di 12 milioni di abitanti. Dopo l'epidemia, il governo cinese ha rapidamente adottato una serie di misure per prevenire la diffusione dell'epidemia. Ad esempio, ha annunciato la chiusura della città e prevede di costruire due nuovi ospedali a Wuhan entro 15 giorni. Ragazzi, avete capito? Bene. In 15 giorni, due mega ospedali dedicati solo ed esclusivamente alla cura. Il trattamento dei pazienti infetti. Credo che l'epidemia, credo che l'epidemia presto sarà sotto controllo. Poi, ovviamente, mi ha messo anche in alcuni messaggi la faccina triste. Ragazzi, ma è normale. Stiamo attenti, prestiamo massima attenzione. Non scherziamo con queste cose. Per questo video è tutto. Spero ti sia stato d'aiuto. Ciao e al prossimo video. Ciao e al prossimo video. Ciao e al prossimo video.